Ciao a tutti, come apprendere l'ottimismo? Intanto dobbiamo dire che l'ottimismo, essere ottimista è una cosa buona e giusta. Poi ovviamente la vita riserva fregature sia gli ottimisti che i pessimisti, però l'ottimista vive bene tra una fregatura e l'altra, diciamo così, e invece il pessimista vive male anche tra una fregatura e l'altra. Gli ottimisti comunque hanno un senso generalizzato di fiducia sull'avvenire, hanno diciamo una buona fiducia in se stessi, mentre i pessimisti viceversa vedono il futuro in modo nefasto, sono centrati sul passato. Insomma, l'ottimismo migliora anche la possibilità di raggiungere degli obiettivi. si è più focalizzati sul raggiungimento di un obiettivo, si elabora la realtà in modo più positivo e si accettano anche le cose della realtà che magari non vanno bene e che non si possono modificare. Diciamo che un problema si può risolvere, invece se non è un problema è un dato di fatto, bisogna in qualche modo accettarlo. Come apprendere l'ottimismo quindi? Beh, per apprendere l'ottimismo bisogna renderci conto di quelle che sono le radici del pessimismo. Le radici del pessimismo nascono dai nostri pensieri. Sono i nostri pensieri che ci rendono pessimisti, quindi dobbiamo prima di tutto renderci conto di quali sono i pensieri che ci rendono pessimisti e mettere l'antidoto, cioè il pensiero opposto. Quindi dobbiamo fare un check su quelli che sono i nostri pensieri e averne la consapevolezza, perché spesso i pensieri si manifestano a livello subliminale, cioè al di sotto della soglia di coscienza. Noi non ce ne rendiamo neanche conto. In particolare i pensieri che generano pessimismo sono tre. Il pensiero di essere incapaci di fare una cosa, di raggiungere un obiettivo, insomma, l'incapacità. Il sentirsi incapaci di fare qualcosa. L'altro è sentirsi impediti, cioè ritenere che esistono degli ostacoli talmente alti che si frappongono tra noi e il nostro oggetto di desiderio che non riusciremo mai a conquistarlo. E il terzo pensiero pessimista è quello legato alla sventura, il credere di essere sfortunati, il credere di essere sfigati, il credere che l'universo ce l'abbia con noi e che quindi non c'è niente da fare. Ecco, quindi, questi tre pensieri che poi possono manifestarsi in modo diverso sono le basi, le radici del pessimismo. Noi dobbiamo identificarli e mettere il pensiero opposto. Il pensiero opposto è il pensiero di capacità. Io sono capace. Come è capace un'altra persona? Come ci sono riusciti altri? Ci posso riuscire anch'io. Il pensiero di impedimento? Beh, gli ostacoli della vita sono uno stimolo a fare meglio le cose per superare gli ostacoli stessi. E poi, la sfortuna o la fortuna non esistono perché noi siamo gli artefici del nostro destino. Attraverso le nostre azioni possiamo cambiare anche la realtà che andiamo a percepire. Ecco, questi sono i tre contropensieri che noi dobbiamo utilizzare sistematicamente ogni volta che ci scopriamo avere un pensiero negativo, un pensiero legato al pessimismo. Ovviamente, facendo questo lavoro per un po' di tempo automaticamente, diciamo così, avverrà una sostituzione. I pensieri, i condizionamenti negativi involontari verranno sostituiti dai condizionamenti positivi volontari. Quindi, piano piano, diventeremo ottimisti raggiungendo sicuramente un buon livello di armonia interiore e un buon livello di felicità e raggiungendo più facilmente anche i nostri obiettivi esteriori. Bene, per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao a tutti!